Ciao ciao a tutti e buonasera questa sera ho pensato di fare un video tag sono stata taggata da ben tre persone e lo volevo fare in una maniera un po' diversa allora, sono stata taggata in questo video tag che è aspettate, sei una brava skin carologa è un tag creato da Veronica del canale la bambina mai cresciuta, una ragazza simpaticissima molto solare, molto divertente fa di quei trucchi fantasmagorici se non la conoscete vi invito ad andare a conoscerla e a visitare il suo canale perché è veramente una persona che mette allegria molto simpatica, molto solare e quando davvero uno vuole uno sprint nella giornata se magari è un po' giù Veronica vi tira su fa dei trucchi meravigliosi, davvero molto scenografici ha anche tantissime parrucche che a me piacciono tantissimo crea dei personaggi è davvero una ragazza tutta da conoscere e da scoprire e sono stata taggata dalla bravissima e ironica Giusy del canale Scarlet Diva Makeup dalla simpaticissima Rita del canale Rita Forer e dalla dolcissima Bea del canale Le Gioie di Bea perché vi ho detto che volevo farlo in una maniera un po' diversa perché è sera, stasera non devo uscire e volevo fare appunto skin care con voi parlando della skin care di questo tag se sono una brava skin carologa ora io vado a fare la doppia detersione quella oleosa e quella schiumosa, schiumogena e ci rivediamo poi per tutti gli altri passaggi così vedrete come io faccio skin care sempre non è che lo faccio solo per questo video ma io ho la skin care sia la mattina che alla sera la faccio più o meno così cambiando ovviamente i prodotti alla mattina aggiungendo le SPF e quindi ci facciamo compagnia e rispondiamo alle domande di Veronica torno dopo rieccomi qui con il mio faccione sono tornata e ho già fatto i primi due step il primo step l'ho fatto con il burro di Clinique Zero della aspettate, Vanilla & Co che mi era stato inviato da Stylvana mi piace tantissimo un burro morbidissimo che si scioglie si fonde sulla pelle è una piacevole coccola quindi questo è il primo step e il secondo step non finiscono più questi detergenti coreani della frudia alla pongranate al melograno sono quasi arrivata alla fine spero perché dovrei provare vorrei provare anche altri detergenti ma veniamo alla prima domanda la prima domanda è sai che tipo di pelle hai? sì, ho una pelle mista grassa l'ho scoperto 7-8 anni fa nel senso l'ho sempre saputo ma poi 7-8 anni fa sono andata a fare proprio un test c'era un test gratuito da Mariano e così mi hanno fatto tutti i test e mi hanno detto appunto che avevo una pelle mista grassa ma che era una pelle comunque ben curata nonostante io mettessi soltanto la crema la mattina e molto ben idratata che non c'erano rughe e anche adesso di rughe non ne ho tante sarà anche perché sono un po' cicciottina e quindi riempie bene seconda domanda da quanto tempo fai skin care? intanto ci applichiamo ci applichiamo la mist sto usando questa acqua floreale lenitiva alla sera mi piace molto perché dopo la giornata che è passata il viso ha bisogno di calmarsi un pochettino e questa è quella della Yves Rocher e mi piace molto molto allora da quanto tempo fai skin care? da pochissimo skin care come la intendo io partendo dalla skin care coreana da gennaio del 2022 e da quando ho iniziato non ho più smesso perché trovo che sia un rito di coccola per me stessa davvero molto molto bello e cerco di farlo sempre sia la mattina che la sera devo dire che sono abbastanza brava quante volte a settimana fai skin care? lo dicevo prima sempre tutti i giorni sia la mattina che alla sera e intanto ci mettiamo il tonico e sto usando questo della skin 1004 che ovviamente non so come si dice anche questo mi era stato inviato da Stylevana molto leggero molto lenitivo sono a metà io per il tonico non uso il dischetto ma me lo spatascio sulla faccia e lo lascio asciugare tranquillamente allora quante volte a settimana fai skin care? come dicevo tutti i giorni sia la mattina che alla sera qual è il passaggio skin care che fai più di frequente? ma direi tutti tutti perché li faccio tutti sempre poi vabbè chiaramente alla mattina concludo la mia skin care usando la protezione solare e alla sera no magari faccio una maschera oppure due volte a settimana faccio uno scrub però non ne salto neanche uno qual è il prodotto skin care che usi di meno? che usi di meno no nel senso che proprio per mancanza di tempo magari i patch occhi li uso un po' meno magari delle maschere però se già faccio la maschera alla sera due volte alla sera due volte durante la settimana e la maschera mi copre anche la parte dell'occhio trovo quasi inutile usare i patch occhi i patch occhi devo dire che li uso molto spesso il sabato o la domenica mattina perché dormendo quell'oretta in più mi sveglio che ho gli occhi sicuramente più gonfi qual è il prodotto skin care che usi di meno? nessuno li uso tutti sempre penso di fare quasi tutti i 10 gli step che sono stati consigliati dalla skin care coreana non ne salto neanche uno e non salto i prodotti qual è il prodotto skin care di cui credi di aver più bisogno ma che usi raramente non ne ho non ne ho perché li uso tutti perché mi piace usarli tutti dal primo all'ultimo anzi soprattutto i primi tre che sono mist tonico e essence sono assolutamente per me irrinunciabili ti strucchi sempre prima di andare a dormire assolutamente sì intanto ci mettiamo la essence di codali molto molto buona anche questa sta finendo assolutamente sì non potrei andare a letto senza struccarmi anche se devo dire che in passato ma in passato nel senso prima di sposarmi quando ero una ragazza che uscivo che magari si andava con gli amici fuori che arrivavo ma non è che io arrivassi poi chissà a quale ora cioè per mezzanotte dovevo essere a casa perché se no l'arinella ragazzi era sul terrazzo con la scopa e mi inseguiva però magari ero stanca e non mi struccavo mi è capitato sicuramente sì ma adesso assolutamente no ottava domanda come ti strucchi come dicevo prima alla sera con la doppia detergenza oleosa e schiumogena o schiumosa alla mattina se faccio una maschera intensiva nutriente rifaccio i due step altrimenti faccio uno step che sostituisce questo con una passata di tonico o acqua di rose o acqua micellare risciacquo e poi vado con il mio detergente poi qual è il tuo prodotto skin care preferito in assoluto che compreresti all'infinito su qua non ho dubbi la essence per me di tutti gli step che ci sono nella skin care questo è per me essenziale è la cosa che mi piace di più non lo so se è perché mi da quello step di idratazione in più se comunque il nome essence mi fa pensare a qualcosa di delicato essenziale che non posso fare a meno comunque sicuramente la essence ne devo sempre avere in scorta almeno due o tre sicuramente poi intanto continuiamo ci mettiamo un po' di acido ialuronico la pelle è ancora un po' umidina io ne metto così ok e vediamo qual è cioè scusate decima sei una brava skin carologa che voto ti dai da 1 a 10 allora ragazzi io questa volta non sono umile da 1 a 10 mi do 9 mi do 9 perché mi sembra di rispettare tutti gli step ma non perché sono obbligata adesso uso questo face super serum definitive della lab care mi piace tantissimo rinnovatore cellulare anti age 24 ore lo trovo buonissimo molto coccoloso rigenerante ha un profumo che assomiglia molto a un olio profumato che adesso quello di Nuxe sì secondo me ci assomiglia tantissimo come profumo e me ne faccio due bel pump e poi è una coccola meravigliosa se potessi farvi sentire il profumo un profumo fiorito buono 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 ok poi me lo spalmo sempre anche sulle mani perché mi rimane e quindi vi dicevo io penso di meritarvi un bel 9 non ho mai preso 9 a scuola o forse sì in qualche disegno l'ho preso ma per il resto ero una ragazza che studiava il minimo indispensabile perché avevo altro da fare però nella skin care io penso di meritarmi un bel 9 anche perché poi durante la settimana ho diciamo la skin care aggiuntiva quindi una volta a settimana faccio uno scrub chimico e una volta a settimana uno scrub meccanico faccio lo scrub alle labbra e ci metto il balsamo faccio le maschere a volte in crema a volte maschere in tessuto comunque la skin care è davvero una cosa che ho scoperto da poco ma che mi piace davvero davvero tantissimo e direi che mi mancano solo due step che è il contorno occhi e in questi giorni dove ci sono questi sbalzi di temperatura davvero molto forti gli occhi mi bruciano ancora e quindi sto usando il contorno occhi della Sien e non mi brucia è delicatissimo e mi lenisce mi calma come se io mettessi su della camomilla un balsamo meraviglioso mi piace proprio tanto e poi abbondo me lo metto un po' anche sulle palpebre perché me le sento tirare ok ora mettiamo la crema sto anche qui finendo la crema gel viso alla malva di biofficina toscana mi piace tantissimo è una crema delicata limitiva io con le domande ho finito e mi viene chiesto di taggare delle altre amiche anche qui abbondo vado anche sul collo allora io non ci vedo si poi mi vedete rossa perché ho tutte le luci accese ovviamente la pelle adesso allora io taggerei taggerei la mia amica Antonella del canale Antonella fare disfare la mia amica Stefania Stefi del canale Parvana Stefania la mia amica Doni Donatella del canale Donatella di Cicco e la mia amica Titiana del canale Titiana Lu sentitevi liberi ragazzi di fare questo tag anch'io arrivo sempre tardi ne ho tantissimi da fare però questo ovviamente era un argomento che mi piaceva tantissimo ero stata taggata più volte e quindi ho pensato di fare questa sera skin care con voi e di rispondere alle domande di questo tag io vi ringrazio vi saluto vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video grazie ciao ciao